Amici di Marcosbox, benvenuti in questa piccola video-anteprima del nuovo tema Yaru che troveremo su Ubuntu 21.04, la versione attualmente di sviluppo di Ubuntu che verrà rilasciata in forma stabile il prossimo mese di aprile. Fra le novità di questa nuova versione di Ubuntu, come vi stavo dicendo all'inizio, troviamo un nuovo tema Yaru, sia per quanto riguarda il set di icone che è stato aggiornato con la presenza di nuove icone, ma anche il tema di GNOME Shell che è stato rivisto e alcune piccole modifiche che sono state apportate al tema GTK. Iniziamo subito dal tema GTK. Come potete vedere adesso quando noi selezioniamo un elemento c'è questa piccola barretta arancione sulla sinistra e la selezione in grigia. La stessa cosa la possiamo vedere anche nel File Manager, quindi troviamo praticamente le stesse cose. Quindi stessa grafica nuova, non c'è più la barra arancione che va, la selezione, tutta quanta ragione che va a evidenziare il percorso dove ci siamo, le scorciature rapide dove abbiamo cliccato, ma un più sobrio grigio con questa barretta arancione. Davvero molto elegante. L'altra novità riguarda il tema di GNOME Shell che adesso per l'impostazione predefinita è quello scuro. Non è più come prima il tema chiaro che, diciamo, cozzava, era anche brutto da vedere. Adesso con questa versione scura, anche qui nella Shell, è tutto più carino, vedete? È tutto anche più leggibile. La stessa cosa la troviamo per gli indicatori. Di tutte quante le funzionalità. Infine l'ultima modifica che voglio portarvi all'attenzione riguarda i dispositivi. Quando noi andiamo a insegnare un dispositivo esterno, una chiavetta USB, oppure a montare un disco, adesso i dischi che vengono montati appariranno nella parte destra del desktop. Quindi gli stile Mac OS. Prima venivano montati, se vi ricordate, al di sotto di Home e Cestino, quindi delle due icone principali. Adesso è stato modificato anche il comportamento dell'estensione di Ubuntu che si occupa di gestire l'icone sul desktop e tutti quanti i dischi vengono montati nella parte destra. Che dire, a me queste piccole modifiche piacciono perché vanno a rendere tutto più coerente e più graficamente carino. Speriamo che nel corso delle prossime versioni vengono apportate altre modifiche interessanti. Il tema chiaro, ad esempio, sarebbe bello poter avere... Vi faccio vedere una cosa. Quando noi andiamo a selezionare... Allora, il tema standard di Ubuntu è questo qui. Con leather bar scura e il resto chiaro. Vi faccio vedere la versione chiara. È tutto chiaro. Però non va a modificarsi la shell. Ecco, sarebbe carino avere anche un comportamento simile di aggiornamento della shell per quando si va a cambiare con il tema chiaro. Anche se sapete bene che questa qui è una modifica un po' più difficile da fare perché andrebbe ricaricata la shell con i nuovi settaggi. Ma vabbè, è una cosa un po' più complicata. Non si può fare con il semplice tocco. Però sarebbe bello se i sviluppatori di Ubuntu riuscissero a trovare un modo per cambiare l'aspetto della shell quando si va a cambiare dal tema chiaro al tema standard. Il tema scuro, no, in questo caso perché va benissimo scuro su scuro. Va bene. Bene. Ci riascoltiamo nella prossima video anteprima. Ci rivediamo nella prossima video anteprima. Un saluto a tutti quanti. Lunga vita e prosperità. Ciao ciao. Ciao ciao.